lista delle menate la moda tante volte ho paura di non seguire abbastanza la moda metto le cose che mi piacciono indosso le cose che mi divertono per esempio questo giacchino lo tinto come volevo io quando l'ho indossato mi dico oh mamma cosa penseranno di me le persone magari sembro mia zia magari sembro una nonna questa cosa a volte mi crea proprio delle menate non sono a mio agio porto le cose poi non sono disinvolta autoconsiglio smettila indossa quello che vuoi importante essere convinti e sentirsi a proprio agio con i propri panni tutto il resto sono solo pizze mentali